I carabinieri della compagnia di Chiavari hanno arrestato un 27enne di origine straniera senza fissa dimora in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Genova che ha contestato al giovane il reato di rapina. Le indagini erano iniziate in realtà nel mese di gennaio, quando sono stati commessi diversi furti in abitazione a Leivi. Con frequenza quasi giornaliera sono state colpite molte case, il che ha destato un crescente allarme nella popolazione che si è organizzata con il passaparola anche per segnalare alle forze dell'ordine i movimenti sospetti notati in paese. I furti hanno avuto uno stop improvviso verso la fine del mese ed in particolare dopo il 26 di gennaio, data in cui c'è stata una svolta nelle indagini, quando un cittadino leivese, in orario serale, ha sorpreso un giovane ladro nella propria abitazione, mentre stava cercando di portare via due orologi ed una piccola somma di denaro contante. In quella occasione, sebbene a seguito di una collutazione, il giovane è riuscito a fuggire, ma successivamente è stato riconosciuto ed identificato dai carabinieri. Si tratta di un 27enne già noto alle forze dell'ordine. A partire da qui, in realtà, la parte più complessa è stata quella relativa alle ricerche, perché il giovane non ha una dimora fissa. Sabato i militari lo hanno trovato in un casolare abbandonato nella zona sopra via Parma, a Caperana. L'autorità giudiziaria aveva emesso un ordine di carcerazione a carico del giovane che attualmente si trova nel carcere di Genova Marassi. Nel corso delle operazioni è stata recuperata parecchia refurtiva che in queste ore viene restituita ai legittimi proprietari. Oltre ad oggetti preziosi, smartphone ed apparati elettronici vari, è stata sequestrata anche una bicicletta dotata di navigatore di ingente valore. Gravi dunque gli indizi di colpevolezza a carico del giovane, ma le indagini proseguono per ricostruire esattamente la dinamica dei furti commessi.